Continua a far discutere l'aumento generalizzato delle richieste di costi del servizio di raccolta e trattamento rifiuti stabilito in sede a Toscana Sud per i comuni Aretini, un rincaro che ricadrà inevitabilmente sulle spalle dei contribuenti. Alle amministrazioni della provincia è stato infatti richiesto un aumento del piano economico-finanziario rispetto al 2021. In base al PEF, cioè quanto viene chiesto ai singoli comuni, viene poi formulata la Tari, l'imposta sui rifiuti. Per quanto riguarda quello capoluogo, hanno spiegato gli assessori Alberto Merelli e Marco Sacchetti, il piano registra un costo totale del servizio a carico del comune Aretino di 20.194.000 euro, con un più 2,8 rispetto all'anno precedente. Come ormai noto, hanno spiegato, l'ente locale è spogliato delle sue storiche funzioni. Mentre fino al 2019-2020 c'era una correlazione tra progettualità dei servizi effetti sul PEF, oggi non esiste più questo rapporto diretto a causa dei criteri tarifari sostanzialmente stravolti. Hanno poi ricordato che la possibilità di utilizzare la Fiscalità Generale per ridurre la Tari non è ammessa nel 2022 come non lo era nel 2021. Sulla questione è poi intervenuta anche la Confcommercio tramite il direttore regionale Franco Marinoni, che ha definito intollerabile l'aumento della Tari per imprese e famiglie. Da qui la richiesta a tutte le amministrazioni comunali, a Iato e alla Regione Toscana, per un deciso cambio di rotta nella gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Viene poi richiesto che attuino tutte le azioni ciascuno per loro competenza, per contenere la tariffa anche sanziando apposite risorse, come ha già fatto qualche comune.